Bene amici, sono passati 2, 3, 4 mesi, non mi ricordo più quando ci eravamo visti a Roma per un fantastico aperitivo e con Nubia abbiamo iniziato a scoprire questo Z11 Mini S che mi era piaciuto, bellissimo colore, rimangono i cerchi iconici rossi dietro attorno alla fotocamera e davanti tasto home, led di stato, bellissimo pulsante, arriva però adesso in versione definitiva italiana, 4GB di RAM, 64GB di memoria integrata quindi tanta memoria, Snapdragon 625 sempre una certezza, l'unica parte scriccholante, sicuramente non è la batteria perché dura tantissimo ma la fotocamera, soprattutto l'atto video, ma andiamo a scoprirlo insieme Che bei ricordi a Roma, anzi vi faccio vedere quanti eravamo, guardate, eravamo tantissimi e c'era anche il mitico Carmelo, devo tornarci presto a Roma, dai andiamo a vedere lo Z11 Mini S Ed eccoci qua questo nuovo nuoio e sì, sarà sempre troppo tardi quando in Nubia cambieranno il logo ma andiamo a vedere cosa c'è in confezione beh, devo dire che c'è abbastanza poco, se riesco ad aprirla perché troviamo solamente il cavo tipo C e l'alimentatore che esce a 1.5 mAh anzi no, ampere, perché sarebbero 1500 mAh se la matematica non è un'opinione ci mette circa 2 ore e 20 a caricare da zero la batteria accensione di spegnimento, volume se però lo tocchiamo ha un caricabatteria che esce a 2.4 mAh si carica più velocemente sotto le due ore qua il jack per le cuffie, il secondo microfono qua sotto il primo microfono l'altoparlante, la tipo C da questa parte il carrellino dove si possono mettere o due nanosim oppure nanosim più l'espansione di memoria abbiamo dietro il pulsante per lo sblocco con l'impronta digitale e poi la camera da 23 megapixel, il flash led davanti la camera è da 13 megapixel e ovviamente come ho detto prima c'è il pulsante per la, diciamo il led di notifica è pulsante, è un pulsante pulsante perché pulsa di rosso bellissimo qua ci sono due puntini non tanto visibili ma ci sono, vedete qua sotto che fanno tasto menu, quello sinistro e back, quello destro oltre a fare il back fa anche il multitasking se premuto a lungo e questa è una di quelle cose che a me non piace perché non è intuitiva, non è veloce bisogna tenere premuto a lungo veloci invece sono altre cose ma le andremo a vedere dopo parliamo un pochino di materiali abbiamo metallo al posteriore molto bello questo colore molto particolare tra il grigio e il marrone il mocha, veramente bello le due antenne secondo me sono integrate bene non avendo una riga orizzontale ma andando a seguire il profilo del telefono invece il fatto che non abbia qua una fresatura fa sì che pur essendo un 5.2 pollici quindi per i canoni moderni non padellone sia un pochino scivoloso anche il retro così in metallo satinato è un filo scivoloso GPS è ok, ha l'OTG funziona bene il wifi dual band e succhia tutta la banda che gli si dà in pasto ma non ha l'NFC doppia sim gestita bene poi ne parleremo più tardi vi parlo di batteria 3000 mAh come ho detto prima lo Snapdragon 625 ha uno dei migliori rapporti prestazioni consumo non scalda mai giornata stress arrivato a sera con il 35% di batteria ancora residua e vi parlo del display entriamo qua in galleria alzo un felino la luminosità per farvela vedere meglio entro nella cartella di test e partiamo da cosa? dalla palette colori devo dire che è uno è un LCD non è un AMOLED ma è uno degli LCD con uno dei migliori angoli che io abbia mai visto tant'è che all'inizio dicevo ma potrebbe essere un AMOLED quando l'ho visto la prima volta in realtà poi sono andato nel nero l'ho messo di taglio e mi sono reso conto che no, non era un AMOLED perché soffre ancora di questa criticità bianchi luminosi ma oltre ad essere luminoso si vede molto bene sotto la luce del sole ed è tarato molto bene anche il sensore di luminosità andiamo a vedere che versione software monta monta ve lo dico subito Android in versione 6.0.1 con la Nubia User Interface 4 che praticamente copre tutto perché copre tutto? perché praticamente l'interfaccia è la stessa di tutti i Nubia che ho provato con qualsiasi versione software di Android compresi i piccoli banchi a me non fanno impazzire per esempio nelle notifiche guardate se io vado a espandere una notifica per esempio questa delle mail il testo è nero sullo sfondo nero non si può cambiare non si legge niente ovviamente poi devo cliccare per entrare dentro nell'applicazione in questo caso Gmail ma è una cosa che non mi fa impazzire è proprio secondo me una vaccata rimane invece l'intelligentissima divisione in due del launcher si possono attivare qualsiasi applicazione sia sopra che sotto perché è proprio come se avessimo due telefoni due istanze di Android da poter utilizzare vedete contemporaneamente ovviamente si può fare grande o piccola una o l'altra non c'è il drawer ci sono però le funzionalità a bordo vedete qua i gesti bordo che si possono attivare io li tengo disattivati perché non è come Z11 che è borderless qua un filo anche un pochino più di un filo di bordo c'è non vi ho detto tra l'altro che il vetro è un 2.5D Gorilla Glass 3 quindi io queste queste gesture non le non le utilizzo c'è però la caratteristica sentiamo nel menu proprio caratteristiche e qualche traduzione non è ancora proprio perfetta ma perfettibile la possibilità di andare a attivare doppio account solamente però su Facebook e su Whatsapp la possibilità anche di catturare uno screenshot non solo di testo con anche dei diciamo delle forme circolare a cuore eccetera eccetera schermata lunga quindi abbiamo per esempio una pagina web molto lunga la cattura tutta oppure possiamo anche registrare lo schermo direttamente senza dover installare nessuna applicazione di terze parti un'altra piccola chicca quando abbassiamo il volume vedete alziamo abbassiamo arriviamo alla vibrazione se teniamo premuto si attiva questo menu che ci permette di decidere per quanto tempo silenziare il telefono non so mezz'ora un'ora due ore e se noi molliamo il cursore vedete parte un conto alla rovescia tra mezz'ora il telefono tornerà in modalità audio e questa è una cosa intelligente trittico avete già visto più o meno come gira questo è instagram gira diciamo bene ogni tanto ha qualche piccolo lag e su qualcosina si incaglia un filino adesso erano ovviamente in memoria perché 4 giga di memoria fanno stare tante applicazioni senza che si vadano a chiudere l'apertura delle applicazioni veloce non fulminia ma devo dire per gli standard moderni va va più che bene il browser c'è un browser di serie e lo apro oltre a chrome ovviamente che però non mi dà nulla più di chrome gira comunque bene qualche laggettino avete visto quando ho fatto zoom ma nulla di che ma perché non mi dà nulla in più di chrome perché avete visto ho fatto il doppio tap non c'è un reset del testo ma semplicemente uno zoom in e zoom out tra l'altro va via ma solamente perché interferisce la velocità di automoto gaming real racing parte in 35 secondi non velocissimo poi però gira abbastanza bene anche qua qualche micro lag qua e là nulla di di drammatico andiamo a vedere l'interfaccia della fotocamera che è uguale a quella di tutti gli altri nubia z11 della famiglia velocità di messa a fuoco vedete buona flash auto scatto no auto scatto questo è scatto ritardato cambio camera hdr anche automatico in prima funzione poi qua le impostazioni non si può scegliere la risoluzione ma solamente il formato delle fotografie e qua nelle impostazioni possiamo scegliere la risoluzione dei video massimo 4k ma io preferisco sempre i 1080 a 60 frame per secondo poi ci sono le foto i video le funzionalità pro dove possiamo mettere in manuale queste voci e poi gli effetti ma andiamo a vedere come scatta le foto vi dico subito una cosa che a parte che le foto fatte con la camera anteriore vanno su una cartella a parte ma vabbè quello non è un grosso problema è un telefono che necessita di stare qualche secondo prima di scattare perché non ha la stabilizzazione e i punti scatta vengono spesso mossi invece se si sta lì una qualche attimo le foto vengono bene per esempio questa fatta a Malpensa che inganna molto simpatica ho usato questo telefono per tanti giorni tra cui quelli in cui sono andato a provare la Golf nuova a Palma di Mallorca questa è una foto fatta al cibo con poca luce questa foto ve la zoom perché questo display della nuova Golf ha veramente una definizione pazzesca l'ho fotografata con questo telefono ed è venuta bene questo è il nuovo cruscotto anche qua foto difficile fatta con poca luce qua ancora meno luce quasi notturna al fantastico albergo in cui sono stato un'altra pietanza della cena nell'albergo è solo bella perché non era assolutamente buono la piscina in notturna invece vediamo le foto con tanta luce qua i musi della Golf qua una panoramica catturata comunque bene e qua una gran macchina in realtà vi ho scritto da qualche parte che aveva il motore 3000 diesel in realtà ha il 2000 diesel mai ero eccitato dal momento in cui ce l'avevano consegnata e per silenziosità e per altre caratteristiche pensavo fosse il 3000 poi sono andato a leggere il libretto e ci sono rimasto di sasso anzi ci sono rimasto con questa faccia qua faccia da multa faccia da multa sì perché mi sono preso un bel verbale da 150 euro su un'isola dove praticamente c'ero solo io dove le autostrade erano quasi deserte io l'autovelox e il gendarme che se non avessi pagato 150 euro cash lì sull'unghia mi avrebbe sequestrato la Golf non mia targata tedesca di Volkswagen e sarebbe uscito un caso internazionale vabbè ragazzi mettiamoci una pietra sopra andrò in un ristorante di meno uno di voi con la camera anteriore a malpensa Matteo che faceva una foto questo è il fatto per farvi capire che anche la camera anteriore va bene ma non benissimo i video vi consiglio di andare a vedere il play perché c'è una fantastica stanza domotica 2.0 di un albergo 5 stelle lusso però mettono un po' in evidenzia le criticità di questa videocamera che non è stabilizzata fa degli zoom bruttarelli e con poca luce non è il massimo insomma la camera forse è l'unico ambito un po' scricchiolante in Italia appena arrivato in versione 4.64 e io mi stavo dimenticando della cosa più importante di uno smartphone gli smartphone sono anche telefoni e telefonano e allora telefoniamo al 190 dual sim gestito bene c'è la banda lt800 che non mi ha dato praticamente attiviamo il via voce alziamo il volume ma grazie mai domani San Valentino vabbè a parte questo possibilità di registrare la chiamata ottima la qualità dell'audio nella capsula buono il via voce e nessun problema di ricezione per questo mi stavo dimenticando la parte telefonica perché fondamentalmente in questa settimana di test non mi ha dato mezzo problema altra cosa che non ho fatto sentire è buble poi mi tirate le orecchie allora ve lo faccio ascoltare subito interfaccia bruttarella del player audio e alziamo il volume allora audio buono con le cuffie si sente bene è uno di quei telefoni che mi piace ascoltare stavamo dicendo che in Italia appena arrivato in versione 464 è proprio la memoria interna a giustificare in parte il prezzo di 349 euro forse un filino alto esteticamente molto bello un paio di tocchi ad hoc come dicevo prima la camera qua davanti e il led notifica pulsante che lo rendono molto personale il software è praticamente sempre uguale release dopo release ottima la batteria display molto bello buona parte telefonica un po' scivolosetto qualche lag qui e là che però non minano l'affidabilità generale non ho mai avuto un blocco un riavvio un problema in questi giorni anche con il bluetooth camera non al top purtroppo sotto tono per i video diciamo che completano un po' il quadro di questo smartphone comunque interessante quantomeno per lo sdoppiamento del display un saluto da andrea galeazzi punto com un saluto Grazie a tutti